fammi sentire la voce fammi vedere la luce sono calme di quelli che parlano di quelli che piacciono il primo della classe non si sa per sempre e comunque segnano su post dei ricchi e evitato comunque il tu sei di la luce sono messi notte scelta telefoni luce torino il chi predica e valore idoli non diremo eh 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 inser eh ti vede eh io non dicono che sarà tante cose è che se no non si sentire la luce fammi sentire la luce fammi sentire la luce la luce la luce la luce la luce la luce luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce luce la luce la luce Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti